L'idea è quella di perseguire quello che tutti i cittadini stanno facendo. Ognuno di noi sta portando avanti con grandi sacrifici un segnale rispetto a una crisi enorme. Quindi chi sta a casa, chi lavora in ambito sanitario e chi dal canto suo cerca di dare una mano ad esempio con le consegne a domicilio. Io credo che anche l'amministrazione e ogni singolo consigliere comunale possa dare una risposta anche a quello che verrà dopo il contenimento dei contagi, che è tutta la parte economica della città. È chiaro che la prima e la priorità è quella legata ai contagi, ma subito dopo verrà tutto questo. Allora potremmo già iniziare ipotizzando un'omegna solidale, chiamando a raccolta tutta la città, cosa che ha già fatto in passato, pensiamo a quando è uscito il lago e dovrebbe fare anche oggi, perché la comunità c'è e si è sempre dimostrata solidale. Allora io direi e chiediamo di partire con questo omegna solidale, che è l'idea di iniziare con un fondo dove ogni singolo cittadino e ente istituzionale possa attingere e porre il proprio contributo. L'idea è quella di iniziare proprio dal consiglio comunale, magari con i compensi che i consiglieri comunali e gli amministratori percepiscono per l'anno 2019 in questo caso, e quindi da lì partire sapendo che ci sarà un tempo non troppo lontano dove dovremo dare delle risposte anche ai commercianti, ai disoccupati della nostra città.